Buongiorno da Isabella, vi voglio presentare un paio di belli accessori per il vostro camper van. Partiamo con questo bellissimo paravento che è fatto in tessuto di altissima qualità come siamo abituati da Isabella, è molto stabile come vedete, è un perno che va in terra e così rimane molto stabile anche con un vento un po' più forte. Questo è molto leggero e come pacchetto è molto compatto. In più abbiamo un nuovo telo para pioggia parasole che va infilato semplicemente nella guida del vostro van e è molto bello come materiale. Abbiamo i pali in vetro resina di altissima qualità. In più nel programma abbiamo tante sedie e tavoli molto compatti, un sistema ultraleggero, è molto semplice da montare che occupa poco spazio. Questo tavolo anche questo molto leggero, pieghevole a metà, così occupa pochissimo spazio e è molto stabile. questa lampada anche, la Trip Light, molto bella che posso usare sia come lampada da tavolo oppure come lampada da portare. Si spegne semplicemente chiudendo e in più la posso anche usare su ogni palo per creare una bella illuminazione.